Diletta Leotta mostra la pancia dopo della gravidanza, prima vacanza insieme. Diletta Leotta mostra su Instagram il pancino a pochi giorni dall'annuncio della gravidanza. La conduttrice ha annunciato la dolce attesa attraverso i social e sempre dal suo profilo posta la prima foto della gravidanza. Prima vacanza insieme, scrive osservando con espressione dolce il pancino. A scattare. Probabilmente, è proprio il fidanzato Loris Karius, portiere tedesco con il quale Diletta sembra fare sul serio. Il volto di Daz nel portiere del Newcastle si stanno godendo qualche giorno di vacanza a Dubai. Nella meravigliosa cornice offerta dagli Emirati Arabi, Diletta ha scattato la prima foto della gravidanza da condividere sui social. Sono le ultime ore di vacanza per i due che a breve rientreranno, Diletta in Italia e Loris a Londra dove gioca. Diletta e Loris avevano annunciato la gravidanza con un video condiviso su Instagram. Sulle notte di Fix You dei Coldplay, la conduttrice e il portiere si erano abbandonati l'uno nelle braccia dell'altro. Felici di potere finalmente condividere la gioia della dolce attesa con il resto del mondo dopo settimane di indiscrezioni che nessuno dei due si era curato di smentire. Vi dobbiamo dire una cosa, ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia. Noi alla mia pancia. Presto saremo tre, aveva scritto Diletta senza nascondere la commozione. Tantissimi gli auguri ricevuti da parte di fan e colleghi famosi. Dall'amica Elodie, a Elettra Lamborghini, Simona Ventura, Elisabetta Canalis. Claudio Marchisio, Lorella Cuccarini, Chiara Francini e decine di altri. Il bambino che la coppia aspetta arriva a pochi mesi dal primo incontro. Diletta e Lore stanno insieme dall'autunno scorso. Galeotta è stata una cena di lavoro a Londra nel corso della quale i due si sono conosciuti. Orice crezi tine pentru tine. Fii egoist, dar liniștit, ci eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boyul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, gespe. Chimie, Rimaru, Spike, Buia, Sishuabo, grasul, nimeni altul, Delvede sau Carbo. Tre' să...